Come è la situazione generale? 40 anni da parte di Orazio rispondono sempre evasivamente in qualsiasi altra società carcerati, rispondere evasivamente è una cosa su cui devono rispondere perché Orazio ha tutti i documenti, continuano a rispondere evasivamente. E' una cosa che soltanto in Italia, in un'Italia retta e controllata da sua santità il Papa, perché queste sono cose che giusto il potere papale può fare. E leggerò, ho trovato dei documenti abbastanza interessanti proprio in questi giorni, tra l'altro in una rivista di storia, la risposta che un cardinale, mi pare che fosse proprio il cardinale Alberoni, diede a qualcuno il quale si meravigliava che qui non funzionava, che lì all'epoca non era ancora arrivata l'Italia, perché poi quando l'Italia è arrivata si è corrotta anche l'Italia a contatto col papato. Non è stato il contrario. I vari Monsù Travette, che erano veramente personaggi eccezionali, di un rigore morale eccezionale, le mezze maniche dello Stato. Sì, le mezze maniche dell'amministrazione piemontese, ti immagini i piemontesi, Val d'Aosta, quasi irrigimentati militarmente. Sì, esatto. Quando non lo erano, perché di fatto c'è un certo... Erano irrigimentati militarmente, anche i funzionari civili. Esatto, ma in tutto l'Ottocento, in tutto l'Ottocento, in Francia avevano sempre la divisa. Allora, a questo punto, cari amici, che cosa vuoi dire? Capito? Quando questo qui, che ero un ricercatore, andò, dice ma qui che cazzo? Dice, ma ti immagini, capito? Cartinale Alberoni, dice ma sì, quello che conta è il cielo, poter in cielo contemplare le glorie della Santissima Trinità. E adesso apri la parola. No, ma occorre avere sempre le idee chiare e i capi saldi, ferreamente piantati in terra. Perché in qualunque epoca, in qualunque momento, in qualunque situazione, se non hai la concezione dell'uno e del tutto, contemperati l'uno nell'altro, non riesci a dare la risposta più soggettiva e sociale possibile, contemporaneamente. Perché, come dicevamo prima, mentre eravamo lì nella stazione dei Carabinieri, se tu non hai una concezione profonda della tua vera essenza, non puoi riuscire a realizzare quello che tu hai come intento. E quindi, in ogni caso, sia che la cosa riguardi l'unicum, cioè te, o qualcuno che sia distaccato dal tutto, il problema è che quando non funziona, ad esempio, la sicurezza all'interno della società, non è garantita né la collettività né l'individuo. Quindi, quando c'è un'insicurezza latente, come in questi ultimi decenni in particolare, c'è questa situazione ondivaga, vacua, che non permette né la giustezza del diritto per quello che riguarda l'individuo, né il rispetto delle regole e della sicurezza per quello che riguarda la generalità della società in generale. Non so se è chiaro il concetto. Certo, un testa di cazzo di un funzionario, tra l'altro che ha pure la laurea, perché c'è firmato, dottor Tardità, che risponde a Vanver, perché gli hanno costruito sul suo terreno, cinque case abusive, sul terreno suo. Io non lo so. Sembra folle, ma questa è solo una parte. Poi quando entreremo nel dettaglio, te ne racconto ad altri che fanno ancora più schifo. Uno di questi qua, che ha costruito abusivamente, mi ha costruito mentre io mi opponevo davanti ai caterpillar come a piazza Tiena Men. Questa signora, che era una donna, mi ha denunciato per minacce io da solo alle squadre di operai, mentre ero davanti al caterpillar. Io minacciavo il guidatore del caterpillar, che pigiava un attimo un po' più l'acceleratore o staccava il piede dal freno, ma l'aveva tritato. Questo per dire in che situazioni del cavolo la gente si deve trovare. È incredibile. Perché la corruzione è veramente qualcosa. Oramai è arrivata al midollo. E resta del basso. Perché non è soltanto la corruzione del funzionario. No, del ministro. Che dà l'autorizzazione. Avevano dato l'autorizzazione. Questo è un parco di Veio qui vicino. No, qui appiccicato. Hanno dato l'autorizzazione di costruire. Ma non nel parco di Veio in generale. Senza l'autorizzazione del parco di Veio. Ma in una zona archeologica che un giorno o l'altro vi faremo vedere. Gli hanno dato l'autorizzazione. Per fortuna il costruttore l'hanno ingabbiato. In zona archeologica dove è stato fatto un ritrovamento eccezionale. Cioè la bambina. La famosa bambina. La bambina di grotta rossa con la bambola. Con la bambola. Allora, la bambina è l'unica mummia romana trovata in tutte le epoche a Roma. Mumificata evidentemente da un esperto venuto dall'Egitto. Venduto dall'Egitto. E probabilmente per una famiglia ricca, possidente, egiziana, trapiantata a Roma. No, ma no, sicuramente una famiglia romana. Ed il secondo secolo potrebbe essere benissimo siriana e egiziana. Sì, oh beh, ricordiamoci, il settimo severo era siriano. Sì, va bene. Tanto per dirtene voi. Sì, erano romani che abitavano qui. Qui proprio, come stiamo noi qui oggi. Poi la bambola, come ha fatto vedere anche Piero Angela, in una delle sue trasmissioni ha fatto vedere sia la bambina che la bambola, anzi in più di una trasmissione, perché è veramente qualcosa di un ritrovamento. Con le membra snodabili. Con le membra snodabili, mentre tutte le altre bambole dell'epoca avevano le membra fisse, rigide. Erano una specie di pupazzi, non erano bambole. Certo, certo. Questo per dire, qui, qua a fianco, proprio qua dietro la recinzione che si vede lì, dietro questa recinzione c'è la tomba, il lobulo dove era questa bambina. Quindi quando i nostri amici, che ci vogliono tanto bene, ci tacciano di essere vecchietti al parco delle allodole. Allora, qui intanto siamo in un parco, non è che veniamo qua perché lui abita qui. Qui dietro. Ma non è che veniamo qui solo perché lui abita qui dietro. Veniamo qui perché c'è un motivo per venire qua. Certo. Qua siamo in un ambiente particolare, un ambiente protetto. Cinque vincoli, cinque vincoli. Di cui se ne sono fregati. Se ne sono fottoli. Quelli che sono completati. Però per fortuna che il costruttore al momento è al gabbio. Ah, l'hanno messo al gabbio finalmente. Ecco, quindi si sono calmati un po'. Un signore che si ha il Parnaso, il Parnaso greco. Secondo te è un cognome vero questo qua? No, è un Parnaso. Non a caso questi nomi vengono messi appositamente per verificare. Esattamente. Come quelli che si chiamano... Una dinastia che conosciamo. Sappiamo bene, insomma. Capito. Uno non è che fa i soldi così all'improvviso. No, ti immagini. No, no, non è che questo... Gli danno i soldi. Gli danno, non che fa i soldi, gli danno i soldi. Capito? E sappiamo anche chi glieli dà. Capito? Vabbè, abbiamo detto, abbiamo illustrato per dire che molti amici che dicono cosa fate queste denunce tante inutili. No, perché la linea della denuncia non è soltanto verticale e arriva al denunciato, ma la linea... Quasi mai, quello quasi mai. Ma è che la linea, portandosi dietro, tutta una diramazione di una corruzione spicciola, decadente, moralmente squallida, che è tutto un insieme di venduti e di testa di cazzo. Messi appositamente per essere dei testa di cazzo che non capiscono cazzo. Perché il signore lì, quando risponde alla mia lettera, dice, testuali parole, della licenza di costruire. Quando la licenza di costruire è stata abrogata nel 1977, quando io l'ho chiesta nel 1980. Quindi lui, essendo esperto in materia, avrebbe dovuto capire perfettamente che non era una licenza di lizia, ma una concessione di lizia, che è di tutt'altra sfera. E viceversa, lui, che è il deus ex machina di quel particolare ambito, si permette di dire delle cazzate del genere. Questo per far capire che uno che dovrebbe essere il massimo esperto della località nel determinato ruolo che copre, in realtà è un perfetto imbecille. imbecille, in malafede, perché ci vuole niente andare a prendere un libro di normative e a darsene a leggere. Nemmeno quello fanno questi qui, perché non gliene fregano niente. Non lo devono sapere, perché loro si arrogano e arroccano su quel piedistallo del potere. Io sono il potere e quindi dico e faccio quello che cazzo mi pare pure in barba alle leggi. Ovviamente è chiaro che queste sono cose che possono accadere solo in un regime allo spascio. Papale, no, papale, dove il Papa, questo Papa qui, si permette di dire che noi, noi cittadini, dobbiamo ospitare i migrantes e lui, che è l'uomo più ricco in assoluto del mondo, in assoluto, l'uomo più ricco del mondo, se ne guarda bene dall'accettare un migrante. Non per modo di dire è l'uomo più ricco del mondo perché controlla un tesoro, per esempio, d'oro di proprio aureo di circa 80.000 tonnellate d'oro, cioè tre quarti di tutto l'oro estratto al mondo da che esiste l'uomo, ce l'ha in mano lui. Questo per dire allora io ti chiedo dov'è? E la risposta è infilato nel culo dei cardinali e dei vescovi. È così. Non essere volgare, non trascendere. Ma che culo è una cosa volgare? Piace tanto ai preti, piace tanto il culetto dei bambini, ci sarà una ragione, forse è una ragione religiosa, forse loro, ammirando il culetto dei bambini e pensano di poter andare tranquillamente in paradiso ad ammirare altri culetti o sbaglio? Quelli dei puttini. Ecco, quelli dei puttini, sì. O delle puttane che in paradiso abbondano. Putti, puttini e puttane. che abbondano in paradiso. Vabbè, insomma, in conclusione oggi non c'eravamo un cazzo da dire. No, abbiamo detto una cosa che è la più importante in assoluto, perché non è, come dicevo, un fatto singolo, diretto, lineare. No, dice, oh, abbiamo avuto un criminale il quale ha fatto delle cose. No, è una diffusione melmosa, una diarrea di atti illegali che si sommano l'uno e l'altro e all'interno dei quali, ovviamente, quello che è successo l'altro ieri a Napoli, un comando della Camorra ha bloccato i due sensi di marcia della strada e calmo e tranquillo, senza che nessuno gli dicesse niente, perché polizia, carabinieri, vigili del fuoco, vigili urbani, brillavano per la loro assenza. Completamente assenti, sono entrati in un negozio che evidentemente non pagava il pizzo e l'hanno fatto assaltare con adeguati dosi di tritolo, capito? Se c'ero io, se c'ero io, a quelli lì il tritolo glielo filavo, li infilavano in bucio del culo, capito? Qual è la differenza, capito? No, lo vogliamo dire perché in questa maniera certi amici nostri capiscono come la pensiamo, così come sul fatto che, e lo ripeto, perché oggi l'ho detto a due negozianti, lì si sono pure spaventati, allora, le due navi porta, le due navi negriere, che... ne abbiamo parlato in varie occasioni, noi abbiamo parlato sempre di navi negriere, perché non avevamo indagato, ma noi sapevamo perfettamente con chi avevamo a che fare, avendolo studiato partendo dalle navi negriere dei sassun, della compagnia dell'India, dell'Olandese, inglese, eccetera, bravissime persone, allora, le due navi che battono bandiera olandese, e nessuno fino ad oggi era andato a indagare, a vedere, il registro navale, esattamente, l'hanno chiesto proprio agli olandesi, mai matricolate nessuno Allora, sono due navi pirata, allora, ai pirati gli facevano la pelle senza processo? Sì, i pirati quando arrivavano i pirati saraceni, loro tentavano di fare le razzie e rubavano le donne, rapivano le donne, e tagliavano la testa come è successo l'altra viceversa, quando riuscivano a catturarli gli italiani ai saraceni, gli facevano o la castrazione, o l'imparatura era bellissima l'imparatura oppure il taglio della testa pure noi ecco appunto, capisci? Così, cosa bello, come successe l'ultima invasione di pirati saraceni è avvenuta all'isola del Giglio dove è successo che questi qua siccome i cittadini erano scappati tutti erano andati ai vertici in cima avevano lasciato tutte le porte aperte e avevano lasciato aperte anche tre o quattro cantine allora che è successo? Sono obbligati sì, salendo su bevi bevi sono obbligati gli hanno presi e gli hanno fatti diventare schiavi mi pare giusto gli ultimi schiavi italiani 1821 è capito? No, noi li impicchiamo proprio noi questi qui questi che sono pirati vengono impiccati sull'albero più alto ed è una una visione piacevole anzi molto bella far vedere ai ai negroni no? i negroni stanno sotto a guardare e quelli ballo con il salone capito? queste sono le cose capito com'è? e allora quindi uno stato di diritto e con le palle come dovrebbe essere lo stato italiano o si spererebbe che dovrebbe essere appunto dovrebbe per la prima cosa sequestrare immediatamente le navi metterle sotto sotto processo l'equipaggio perché fra l'altro in quell'equipaggio non ci sono manco gli olandesi proprietari ma non ci sono manco gli olandesi come equipaggio certo quindi questo per dire che siamo nel più completo sistema abusivo sistema di illegalità assoluto 4-5 anni fa quando partì una goletta ti ricordi la famosa goletta che doveva fare una manifestazione ma di fronte a israeli gli israeliani la nostra vita hanno ammazzato un po' di persone hanno salito subito senza tante chiacchiere è stata assalita hanno ammazzato un po' di persone e arrivederci grazie vai a dire perché non ci riprovano più e non facevano niente niente di male niente di male andavano lì la goletta era regolarmente registrata le persone che stavano lì erano civilissime persone che stavano protestando contro gli assassini mirati che fanno questi signori loro l'hanno fatto hanno buttato giù dei paracaduttisti delle teste di cuoio degli elicotteri hanno preso e hanno ammazzato senza tante chiacchiere capite come si fa cosa si fa gli israeliani possiamo dire tutto quello che vuoi degli israeliani ma su questo hanno perfettamente ragione come quell'episodio dell'Oca Selvaggio se tu la ricordi e qual'era l'episodio dell'Oca Selvaggio che c'era un aereo di migrantes israeliani che arrivavano da non so dove è una pattuglia dei palestinesi di una delle fazioni più non era l'Oca Selvaggio allora non era l'Oca Selvaggio c'era questo aereo era stato dirottato quello di l'Oca Selvaggio era quello con Barton era stato dirottato in un paese africano allora quello è l'assalto all'aeroporto si bravo è un'altra cosa l'assalto da parte delle teste di cuoio all'aeroporto all'aeroporto di Kinshasa o qualcosa di quelle parti lì del famoso tiranno negro bravissimo capito quello grosso gigante grosso quello che si mangiava che quando gli nemici sono andati a vedere nei suoi frigoriferi membra umane membra umane tu non mangia quello che gli mangia e tu mangi merda di cammello e lui giustamente mangia buona carne umana magari di giovane di giovane facciulla facciulla bianca eccetera pulzella è una questione di gusti nessuno di gustibus non disputandum non disputandum est e ricordatevi che sono arrivati in Italia 13.000 bambini migrantes senza genitori l'hanno detto l'altro ieri in televisione a parte quello ci sono 2.000 circa bambini all'anno italiani che spariscono 13.000 che sono arrivati fanno tutte queste storie accoglieteli qua e io ho l'impressione che questi 13.000 siano gli unici che sono stati accolti nelle sagrestie nei vescovadi nei vicariati immagina quanti sono stati accolti in San Pietro come grande San Pietro tutti questi angioletti sono quelli che cantano tra gli angeli ti prego metti un angioletto negro e con questo chiudiamo come faceva lo so pittore ti devo parlare mentre ti pigi all'altare non sono un povero negro ma nel signore io credo la sostanza è quella il grande Don Marino Barreto Junior che io conosciuto anche gli angeli come era aspetta anche gli angeli no la saliva anche i bimbi negri hanno pianto se tu dipingi con amore perché disprezzi il mio colore c'era un punto che saliva non mi ricordo più anche anche gli angeli no si faceva così si tutto punta anche gli angeli tra gli angeli ti prego metti un angioletto negro lo so no non è lo santo dipingi con amore se tu dipingi con amore se tu dipingi con amore vabbè vabbè non ce la riguardiamo perché disprezzi il mio colore guarda che questi sono un problema tra l'altro colgo l'occasione per queste persone che non hanno conosciuto Don Marino Barreto Junior che invece l'estate era bravissimo cantava Milano Marittimo ecco perché l'ho conosciuto andavamo sempre a ballare però c'era anche Don Marino Barreto Senior che poi tra l'altro Junior è morto poverino di cirurgia epatica a 51 anni poverino beveva beva chiave tra una canzone e l'altra e l'altro che io ho cercato disperatamente Don Marino Barreto Senior aveva un cast ritmico da far paura ma veramente da far paura invece Junior suonava faceva delle begin molto soft perché con quella viocina era molto mentre l'altro aveva dei ritmi pazzeschi sudamericani pazzeschi l'ho cercato disperatamente e non l'ho trovato più non c'è non ha lasciato segno Don Marino Barreto Senior se vi capita cari amici andatela a cercare va bene salutiamo pace bene sempre sempre vi chiedete perché noi siamo fedeli al Gran Dio Priapo perché è l'unica divinità rispettabile che ci sia in questo paese il bello è bisogna dirlo agli amici che in tantissimi paesi c'è ancora il culto di Priapo come ad esempio in Giappone che fanno delle festività dei falli lunghi 5 metri 8 metri io avevo proposto appunto qui in questo posto di fare una processione in onore della Madonna dei debitori e poi unita qui unita nel posto dove volevano costruire io avevo proposto di fare una via crucis un obelisco un bello obelisco a pene una via crucis per ricordare nei vari tempietti le fatiche di Ercole e di Mitra quella è la vera via crucis e di Dioniso le altre sono tutte copiazzature e di Buddha sì tutte copiazzature ricordiamoci che Dioniso Buddha e Mitra nascono come minimo 600 anni prima di Cristo esattamente penso un po' come minimo sì però c'erano quei profeti che dissero sì sono nati perché preannunciavano preannunciavano sì vabbè diciamo quello che dicono diamogli la calla come si dice a Roma buoni basta ciao a tutti grazie a tutti grazie a tutti grazie a tutti grazie a tutti